bentornati ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video io sono buzzer e oggi siamo su black ops 3 allora oggi abbiamo la classe core gorgon non perché sono nabu allora vi racconto un po la mia storia tipo con il giro degli account allora il mio primo insomma con su questo gioco si chiamava kate buzzer kate era un mio vecchio clan che non proprio clan avevo avevo deciso di crearlo della gente erano entrati tipo tre o quattro membri si erano creati un account così allora kit buzzer era il mio primo profilo su questo gioco poi ho deciso di abbandonarlo sinceramente mi era passata la voglia e volevo fare un altro account cioè questo in questo profilo ero di nuovo arrivato prestigio 3 e ho rifatto un nuovo inizio quando stavo facendo la dark matter per una scommessa e ora una settimana fa un paio di settimane fa e mi è rivenuta voglia di farla dark matter perché vedo troppa gente con quella mimetica semplicemente mi è tornata la voglia di farla a questo punto vi faccio vedere che ho fatto gli smg diamante eccolo qua ho fatto anche le armi extra tipo la mp 40 per l'unica arma che ho possiamo dire poi ho fatto gli assalto volevo tenermi lì per il perché diciamo che erano quelli più facili i fucili a pompa li ho fatti le leggere per l'appunto le sto facendo per ora sto facendo gli accesso non ho ancora iniziato da poco da poco i cecchini li ho fatti e poi io e ieri giusto ieri ho finito le pistole e poi ho fatto anche ho fatto i lanciatori pensavo che di metterci sinceramente di più più tempo per farli invece no cioè tipo sono stati tipo la terza categoria da armi diamante che ho fatto poi le armi corpo a corpo volevo farli dopo le leggere tutte anche queste del dlc e poi ho fatto la o poi la balestra e ho anche fatto questa la balestra d'oro i long shot per chi magari c'ha la balestra e non sa fare i long shot magari non ha idea muore sempre quando prova a star lontano lontano dai nemici e queste cose qua io i long shot li ho fatti quello spot in alto su combine è entrato thomas nelle parti mentre stavo registrando quindi prenderà parte del nostro video visto che stavo stavano parlando di farla dark matter lui sta facendo la marcia dark matter quindi ci spada allora innanzitutto buongiorno eh buongiorno thomas buongiorno buongiorno a tutti cercheremo di fare più ecce possibile noi faremo due partite su deathmatch e ci vediamo in partita bella che ragazzi siamo tornati abbiamo trovato una lobby c'è newton e devo campionare molto con quest'arma e quindi non lamentatevi perché è normale con quest'arte che palle e palle laga con un porco quello non lo spano avversario qual è 40 mica questo stava la gamba in botto è il piano quello con lo site verde ma infatti è grande mi ha sponato dietro no 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 alessia non dirmi che è tutta amperata col cittino ok ecce che quello magari è un ecce gratis no non è vero parsing gun fatti coraggio lo metto da lontano posso per cortesia andare dall'altro side della mappa wow ora sta in edge glitch con la mira aperta senti io lo distruggo il contrattacco mi dà fastidio basta star dietro la macchina quello ancora lì dai no e vabbè brighton è mico dove nell'edulic so wow ok va bene adesso metto il vesper e ti apro in due parafili di merda gli ho dato quattro colpi o parafili è un hacker parafili è un hacker non va giù oh mio dio povero non ho un bombotto oh mio dio parafili la madonna sono sponato ferito togiti non si compra amore dai ma perché saltano eh vabbè uno nel led glitch su blu uno nel led glitch sul rosso e che cazzo vuol dire olè dai stiamo dentro olè quello che l'ha da non ci dov'è parafili per chi i parafili applausi cioè applausi cazzo ora lo puscio con l'ondata di colore non mi interessa va bene ok ragazzi siamo nella stessa lobby solo che ha cambiato la mappa siamo su combine comunque nell'altra partita abbiamo fatto 6 a me va bene con quest'arma in quella lobby due due tre buono mafione ma che bello mi sternano mi uccidono da dietro mamma mia che problema le stesse ma non è sentimi devi dire qual è il nostro spon e ogni volta mi fa sconare più avanti ma tu devi più fuori su quel gol con tu dai le armi dovrebbe essere più facile per Fammi far quell'Headshot, maledetto lì, scuse l'Headshot No, vabbè, nemico, non li vedono Wow, non è Headshot! No, io non ho parole, questo è proprio un gioco di merda È un urgent Headshot, beh dai, challengeatemi L'hanno inciso da dietro Grande Eh, lo so, sono spawnato lì Dai, che compagno rincoglionito Che cazzo! Ok, viene uno di qua Sono tutti nella cazazza di lei Sì, lo so, c'è l'Habili, vedo Comunque io non li challenge, ho sempre un Gorgon in mano, cioè Quanti colpi ancora? Cazzo, wow Wow, io non ho parole Questi non sono pro player di più Ma come non hanno Headshot? Ma come non hanno Headshot? Ma ma fanculo, voglio un po' di merda Come fa a non essere Headshot? Eh, comunque io sono soddisfatto del risultato che ho fatto in queste due partite, quindi Mi ho sparato in Hitfire Allora, venite Ok C'è uno che passa sempre per Warland Dico che non posso sparare in Fire La devo mirare allora Wow! Wow! Ok, però Ah, sei Dio quello che fa sempre warrun, eh ormai me lo aspetto zio fermati, ti prego fermati ok, headshot ho cambiato spawn ah, io gli ho fatto hit marker e lui dalla mia stessa distanza non me l'ha fatto che bello eh, marshal contro marshal basta cantorare ok, noi ci vediamo direttamente nel menu principale a dopo ok, eccoci tornati, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace se non vi è piaciuto scrivete qui sotto un commento noi ci vediamo al prossimo video, saluta da tiger bella raga ciao 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 ciao